La partita è molto tossoferta, arriva anche la stanchezza, credo che oggi vincere questa partita non era semplice per niente, anche perché giocavamo con una squadra tosta, di grande talento, molto simile a noi nel modo di giocare, non era per niente semplice. Siamo partiti anche con un po' di difficoltà, dopo un po' siamo riorganizzati, è stata sicuramente un'analisi tattica, credo che sia un po' superficiale, perché alla fine credo che sia soltanto un'analisi dell'impegno, del sacrificio, della voglia, anche vedere la rabbia loro dopo il gol, anche la panchina come si è comportata nei fari di cambio. Abbiamo fatto cambi con tutti loro insieme, eravamo già in 5-6 a pensare ai cambi, alle cose e quella è stata una cosa molto bella, per quello è una vittoria veramente importante, molto. L'hai detto tu, eravate uniti, è la parola giusta da utilizzare, almeno voi? No, ma siamo sempre stati, guarda, io sinceramente vorrei parlare di questa partita, perché credo che è la cosa più bella della giornata, perché è stata molto bella, l'esultanza loro, i cambi, uno di là, uno di qua, e cercare di capire com'era possibile sbloccare una partita difficilissima per noi. Allora io per una volta faccio la buona, ti parlo soltanto di cose positive, le cose negative, poi ne parleranno ovviamente Marco e i suoi ospiti. E allora visto che tu dicevi dell'abbraccio, della gioia e di tutto il resto, ti faccio vedere gli abbracci che ci sono stati a fine partita tra te e soprattutto tra Gattuso, ma anche quello che sembrava non vedesse l'ora di darti, Adriano Gagliane che ti ha aspettato qui. Che cosa c'era dietro? No, no, noi abbiamo un grandissimo rapporto, è vero che è un momento particolare, noi sentivamo tanto questa partita perché il fatto di aver perso due partite di fila, di essere stati avvicinati, riavvicinati di squadre che stanno giocando molto bene, è vero che c'era tante cose, diciamo anche il fatto... Ecco, il Gatto, sì, il Gatto abbiamo fatto i cambi tutti insieme, abbiamo discusso io, lui, Pippo per sapere cosa era meglio fare in quel momento lì, è stato bello perché ci voleva anche un momento di lucidità, di tranquillità e mi hanno aiutato parecchio. No, ma credo che c'era tanto questo, c'era tanto, diciamo... Guarda questo abbraccio. Sì, sì, ma noi abbiamo un rapporto di tanti anni, sono 13 anni di rapporto, questo abbraccio... Siete compatibili? Sicuramente c'è la storia dietro, ma sinceramente io credo che è normale anche le domande, io credo che noi abbiamo sicuramente fatto un passo importante alla calificazione per l'App Champions, però manca ancora, Manca ancora, mancano ancora due partite, il nostro obiettivo quest'anno è stato sempre giocare bene, è stato sempre un bel gioco, cercare il bel gioco e quello, sono ancora due partite da fare e sicuramente da raggiungere l'obiettivo definitivo che ancora non è stato raggiunto. Marco? Sì, eccola la classifica, il bel gioco in effetti c'è stato per larga parte della stagione, quando dicevi in conferenza stampa, citando Renato Zero, ti darei gli occhi miei per vedere quello che tu non vedi, come cos'è il genere, la conosco molto bene la canzone. Ti riferivi proprio a questo, al fatto che Berlusconi... Non la conosci, Renato Zero? Sì, no, la conosco, però non esattamente tutto il testo, ti riferivi al fatto che Berlusconi non ha riconosciuto i meriti del Milan, non ha riconosciuto il bel gioco che avete espresso? Io sinceramente vorrei parlare della partita, anche per rispetto a quello che abbiamo fatto, rispetto assoluto a quello che è stato tutto quest'anno, mancano ancora due partite e io ci tengo troppo a quello che abbiamo fatto, a quello che stiamo facendo, ai nostri rapporti, ci tengo davvero troppo. Io credo che sia normale cercare di parlare, quello che è stato detto è stato detto, quello che è stato fatto è stato fatto, ma oggi davvero credo che per rispetto a tutto quello che abbiamo fatto è giusto parlare della partita. Beh, per oggi è il primo maggio, non hai parlato col tuo datore di lavoro, no? Non vi siete sentiti chiariti? Ma ancora? No. Ma ancora? Eh, sono testato. La prossima domanda? Sì.